Il sindaco oggi c'è il centenario dell'Unione Industriale a Città della Scienza, lei ha mandato il vice sindaco del giudice, ma ci sono un po' di rumor, gli industriali non hanno apprezzato questa sua assenza oggi. Io vorrei che nessuno se la prenda male, se questa città ogni giorno ha qualcosa come 50, 60, 70 eventi a cui viene invitato solamente il sindaco, che non ha il dono dell'ubiquità e ha impegni istituzionali e certe volte impegni sopravvenuti molto seri e molto importanti legati all'interesse preminente della città e dei cittadini, quindi non c'è nessun snobbare nessuno, sono stato presente a San Giovanni quando c'è stata la prima iniziativa, ci sarò all'altra il 22 giugno, mandare un vice sindaco così autorevole come Raffaele del giudice non mi sembra, poi se qualcuno strumentalmente vuole dire che questo è uno strappo o è qualcosa è una valutazione legittima, priva di qualsiasi fondamento, poi le iniziative che ho fatto stamattina sono di pari livello, non c'è una gerarchia nelle importanze delle cose, sono le scelte che uno deve fare ogni giorno, le fa nel miglior modo possibile, quindi rispetto per gli industriali, dei vincenti non c'entra nulla, col quale stiamo dialogando e cooperando ai livelli importanti su ogni tavolo, quindi evidentemente c'è qualcuno che ha interesse a porla in questo modo, se sono gli industriali me ne spiace, se è qualcun altro me ne spiace lo stesso, ma se ne facessero una ragione loro non è. Sindaco, scusi, ma come lei riesce a stabilire le priorità tra la visita di un ministro o tutto il mondo degli imprenditori? C'è la discrezionalità del Sindaco, non devo dare una spiegazione di come faccio l'agenda del Sindaco, chiedo scusa. È strano perché se viene Vincente a Napoli lei chiede al governo sempre un sacco di cose, legittimamente. Non era l'incontro con De Vincente, c'era la possibilità di mettere Napoli al centro. No, forse avete letto male il programma, il mattino l'ha letto un po' male probabilmente, non c'era un incontro con De Vincente, io stavo in un'altra tavola rotonda. Ma si poteva incontrarmi. Anzi, però com'è mi incontro più di quello che lei sa con De Vincente, mi sento anche più spesso, boh, De Vincente il rapporto nonostante il mattino è buono. E c'è pure Vincenzo Boccia, il Presidente degli Industriali. Me lo salutate affettosamente ragazzi. Molto affettosamente.